ha già messo una taglia che è guaglia, quella di Bin Laden nuovo round negoziale oggi a Berlino per decidere le sorti di Opel dopo il fallimento ieri del vertice venuto dal governo tedesco sul futuro della casa automobilistica oggi alle 14 dovrebbe venire comunicata la decisione riguardante il prestito ponte per garantire la sopravvivenza del marchio fino alla scelta di una sua sistemazione definitiva